Il Philips Senso Touch è il nuovo rasoio di Philips che garantisce una rasatura efficace e senza precedenti su tutto il viso. Il design è studiato nei minimi dettagli, il corpo è rifinito con materiale lucido per renderlo ancora più elegante. Il suo sistema di rasatura Gyroflex 2D si adatta perfettamente ad ogni linea del viso ed abbinato alle testine Dual Precision, che afferrano anche i peli più difficili, garantisce una rasatura impeccabile lasciando ad ogni passata la pelle morbida e priva di fastidiose irritazioni. Sul bordo della testa un comodo trimmer di precisione vi aiuterà nella cura dei dettagli rendendo il trattamento di baffi o basette davvero semplice. L'uso di Senso Touch è reso ancora più agevole dalla batteria interna che permette l'uso senza filo, in questo modo potremo usare il rasoio anche in viaggio in tutta comodità. La pulizia è davvero semplice, la testa si apre in modo facile mediante il tasto laterale ed è possibile lavarla sotto l'acqua corrente. Il sistema è infatti dotato di rivestimento interno antibatterico. Il rasoio Senso Touch di Philips è davvero avanzato, uno strumento indispensabile per tutti gli uomini che amano la cura del proprio aspetto.